Perché si effettua la terapia infiltrativa intraarticolare nell'articolazione del ginocchio? L'abbiamo chiesto a un vero esperto, al dottor Andrea Delle Sedie, che abbiamo incontrato qui ad Assisi in occasione del VI Regional Congress of the Ultrasound Therapy Injection, un convegno interamente dedicato alla terapia infiltrativa intraarticolare che quest'anno si è focalizzato sulla medicina sportiva. Dottor Delle Sedie, innanzitutto quali sono i punti di infiltrazione standard? A livello del ginocchio i punti di infiltrazione standard ben noti sono sostanzialmente sei, ovvero tre sul versante laterale e tre sul versante mediale. Per meglio specificare sono un punto di accesso superiore, un medio quatellare e un antero sulla parte anteriore con posizioni del paziente differenti, quindi mentre il punto superiore, l'angolo superiore, l'atero superiore soprattutto, o il medio quatellare, il paziente sdraiato a gambe stesa, nell'approccio anteriore il paziente è seduto, quindi con un angolo retto praticamente a livello del ginocchio. I punti di reperi possono essere l'angolo superiore della rotola, quindi circa un centimetro, un centimetro e mezzo superiore e laterale rispetto all'angolo superolaterale della rotola quando facciamo un accesso superolaterale che corrisponde di fatto al recesso superolaterale dell'articolazione. Il medio quatellare vuol dire all'incirca alla metà della lunghezza della rotola. In quel caso la rotola deve essere in parte sublussata, cioè fatta una pressione sul margine controlaterale rispetto a dove entriamo per infiltrare in modo da aprire questo spazio articolare. Per l'accesso anteriore invece viene palpata, il polo inferiore della rotola viene palpata la tibia e quello che è il tendine a patellare in modo da entrare sulla parte più bassa, quindi leggermente sopra il polo del piatto tibiale, ma lateralmente rispetto al tendine. Sono tutti ugualmente efficaci, cioè datti allo scopo, oppure ci sono delle differenze? Quindi qualcuno più efficiente degli altri? In generale possiamo dire che la letteratura ci ha insegnato come tutti gli accessi laterali siano sempre meglio degli accessi mediali. Fra gli accessi laterali ci sono delle differenze abbastanza importanti riguardo quella che è la prevalenza, la possibilità e la raggiungibilità del cavo articolare. L'approccio che si è dimostrato, secondo letteratura, più efficiente è il superolaterale, quindi quello più craniale dei tre. Questo però è vero sostanzialmente quando abbiamo molto liquido, molto versamento, perché quel recesso, perché sia raggiungibile, deve essere espanso. Quando abbiamo poco o nessun versamento nell'articolazione, di fatto quella è una cavità semivirtuale e quindi è molto più semplice entrare in un'articolazione, fra virgolette, asciutta, utilizzando un accesso medio patellare o eventualmente l'anteriore. Fra questi due il medio patellare si è dimostrato avere una prevalenza di successo più alta, significativamente più alta dell'accesso anteriore. Ecco, le due categorie di prodotti che si usano per la terapia infiltrativa intraarticolare sono l'acido ialuronico e il cortisonico. Si possono infiltrare in maniera indifferenziata, cioè i punti di accesso che lei ci ha descritto sono tutti uguali relativamente all'utilizzo di queste sostanze oppure ci sono delle differenze? In realtà, traspare un po' da quello che ho detto prima, l'accesso su prolaterale è un ottimo accesso quando abbiamo versamento. L'acido ialuronico non dovrebbe essere infiltrato se c'è versamento e quindi quell'accesso diventa difficilmente perseguibile in una situazione ideale di ginocchio asciutto solo con un'artrosi. Perlomeno c'è un rischio abbastanza alto di non entrare in cavità articolare e quindi il nostro acido ialuronico in realtà non solo non avrà un effetto positivo ma addirittura può costituire una causa di dolore per il paziente. Tra gli altri due accessi, come dicevo, il meglio patellare è quello che personalmente preferisco ma che anche la letteratura dice che essere più, garantire un maggior numero di successi. È un accesso molto semplice, dicevo, basta premere sul polo controlaterale della rotula in modo da sublussarla, aprire lo spazio a quel punto lì, mezzo centimetro dentro, appena entriamo dentro l'acuto in realtà siamo già in articolazione e quindi non c'è possibilità di errore. Siete, oltre a quelle che ci ha descritto, ci sono altre strutture del ginocchio che possono essere infiltrate? Sicuramente sì, una struttura importante da valutare e da infiltrare è la cisti di Bacher. È importante infiltrarla, o meglio, è importante evacuare la cisti di Bacher perché il rischio talvolta è che si possa rompere dando tutta una serie di problematiche dolorose per il paziente. In questo caso qui è assolutamente fondamentale e non è possibile fare in altro modo se non utilizzando l'ecoguida, proprio perché ci garantisce di visualizzare bene una struttura che è profonda, che è difficilmente palpabile, a meno che non sia veramente molto distesa e molto grande e ci garantisce anche di avere il piano controllo di vedere quindi il nostro ago quando entra in profondità. Sicuramente va fatta quando l'angolo distale, quindi più in basso della nostra cisti di Bacher, è già angolato. Da un punto di vista ecografico, se il margine inferiore ha ancora un angolo, una curva, una concavità diciamo che non è ancora a rischio di rottura. Quando vedete che diventa un qualcosa con una punta, quello è il segno che la cisti è veramente sotto tensione e che probabilmente si andrà a rompere a breve tempo. E quindi in quella situazione è assolutamente necessario evacuare il liquido che c'è dentro e ovviamente metterci dentro un pochino di cortisone. Rimane poi fondamentale quando andate ad evacuare una cisti di Bacher trattare prima comunque l'articolazione perché se abbiamo versamento in articolazione ma non facciamo evacuazione, quindi altro centesi, in articolazione, in filtrazione con cortisone ma trattiamo solo la cisti di Bacher, entro pochi minuti la cisti di Bacher sarà nuovamente rifornita dal liquido che si trova nel comparto articolare. Grazie a tutti!